Si sta male, si sta male a casa, si sta male dentro, si sta male sempre. Le donne non devono subire violenza. È stata la madre della ragazza ventenne aggredita sullo stradone farnese due settimane fa a portare una testimonianza diretta nella manifestazione contro la violenza di genere organizzata oggi a Piacenza dall'Associazione Donne in Nero e dal Centro Antiviolenza La Città delle Donne con ritrovo davanti al Dolmen sul corso. La donna ha preso parte all'iniziativa insieme alla figlia. Non mostriamo il volto per tutelare la vittima. Le donne non si trattano male, si trattano benissimo. Solidarietà alle piacentine vittime di aggressione e alle tante donne che ancora pagano sulla loro pelle le conseguenze di un'esperienza così dolorosa e traumatizzante. È questo il messaggio che si è alzato dal sit-in. Anche a Piacenza, dicono le attiviste, per le donne non è più possibile camminare per strada né di giorno né di notte. Grazie. Grazie. Grazie.